Si è ancora sotto pressione anche se è nato una fase di stabilizzazione. È una situazione, quella che si vive al Covid ospita di Scafati, da tenere sempre sotto controllo. I pazienti infatti non mancano affatto. Dipinge così il quadro attuale del centro Covid di riferimento dell'area nord di Salerno il direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, Maurizio Maria D'Ambrosio. Siamo sotto pressione, però devo dire che passato quel momento di grossa difficoltà per la disponibilità di posti letto, la fase è una fase di stabilizzazione. C'è disponibilità di posti anche se siamo sempre pieni. Quindi voglio dire che è una situazione da tenere sempre sotto controllo. I pazienti non mancano, anche perché abbiamo una situazione anche di pazienti una fascia di età che è più alta, medio alta, che ovviamente è più impegnativa da un punto di vista delle patologie. Quindi sono più complessi. E quindi questo ovviamente fa in modo che i ricoveri sono più lunghi. C'è un turnover più lungo per quanto riguarda il posto libero. E quindi questo incide parecchio poi per l'accoglienza di altri pazienti. Grazie. 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 Grazie.